bella 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 amici miei come tutti i mesi marco drums vi propone i giochi del playstation plus mese aprile 2022 amici miei sono usciti martedì siamo martedì 5 andiamo a vederli insieme amici miei allora io premetto che ne avevo comprati quindi il mitico hood è un gioco che tra l'altro troverete anche sul mio canale sul mio canale youtube è un bel gioco cooperativo da quattro giocatori se avete quattro amici è molto meglio perché sarà dentro da soli si massacrano e chi deve aprire le porte non le apre un casino e niente comunque è un bel gioco uscito un po di tempo fa ma molto molto bello io lo consiglio ragazzi scaricatelo il secondo l'ho comprato un paio di mesi fa e lo trovate anche lui sul mio canale è spongebob spongebob bikini botton reidratato vabbè non penso che ci sia da dire più di tanto del gioco di spongebob è divertente è colorato ed è fighissimo e il terzo è sleigh the spire allora lo stavo provando ragazzi è un gioco di carte in italiano ok amici miei e niente è molto carino è molto carino sinceramente vedete le tipologie di carte e niente è molto carino poi ci sono sempre i soliti bonus i pacchetti esclusivi ai ragazzi io l'ho già riscattato tutti c'è quello di genshin e quello di apex se non avete riscattato gli altri c'è quello anche di warzone fortnite e tanti altri ecco qui anche quello di yugioh lo faccio in diretta amici miei in diretta riscattiamo 50 biglietti per yugioh bella li amici bella li amici ok e quindi ringraziamo il mitico playstation plus vedete questi sono tutti i giochi mese di aprile 2022 noi ci vediamo il prossimo mese sia un po prima per indovinare i giochi che escono al mese di maggio e poi al mese di maggio faremo lo stesso video tutti i mesi ciao amici miei mi raccomando di seguire il canale di marco drums games su youtube per tutti questi video video tutorial le live che porto su twitch e tutto mi raccomando di seguirmi su twitch per tutte le mega live che faccio insieme a voi gioco insieme a voi mi date il vostro id vi iscrivete al canale e giochiamo anche insieme gran turismo lego horizon poi tutti i giochi di inline 2 orca non mi vengono neanche in mente tutti i giochi che escono tokyo ghostwire ghostwire tokyo e tina tina's borderland questi sto portando ultimamente ragazzi quindi io vi ringrazio vi ringrazio dei video vi ringrazio dell'iscrizione vi ringrazio di seguirmi mi raccomando su twitch assolutamente su youtube e anche su instagram tiktok facebook e twitter questi sono tutti i recapiti di marco drums intanto che la mina è lì tranquilla davanti alla televisione come al solito che mi porta via metà dello schermo il mio gattino che se la dorme io vi ringrazio e vi saluto e vi aspetto per un prossimo video e anche per la prossima live ciao amici miei